Sfida di panca piana, chi molla è fuori 15 e 15, totale 50 kg 20 e 20 Per un totale di 60 Subentra Alex per i 70 kg Alex diamo la chiude E la chiude 30 e 30 Per un totale di 80 E' tuo Ricci, è tuo Ce l'hai Su, 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 su Alex diamo la tv Con gli 80 E non ce la fa Va Price con 80 E la chiude Andiamo con gli 85 Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha Sì La Price con gli 85 Su, su, su La chiude, la chiude, la chiude, la chiude Non la chiude Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai Facile, 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 facile Vai, vai, sfricci le chiappe Sfricci le chiappe Vai Sfricci le chiappe Sfricci le chiappe Sfricci le chiappe Sfricci le chiappe